Ciao a tutti amici miei che di Andrew Channel, bentornati a un nuovo episodio dell'Alicato Baldur's Gate 2, Shadows of M. Nello scorso episodio il nostro gruppo, dopo aver ripulito il tendone di un circolo, dopo aver completato la prima quest di tutto il gruppo intero, diciamo, si sta dirigendo verso i bassi fondi della città. Andiamo insieme a vedere. Kylan Bale. Uh, se non sbaglio tu sei quello che sto cercando. Rawan è il tuo nome, giusto? Sì, lo sono. Che cosa vuoi? Non è ciò di cui ho voglia, ma per te posso anche farlo. Tu potresti aver bisogno di informazioni riguardo ad una giovane donna arrestata dagli stregoni, giusto? Stai parlando di Imoen? Imoen, sì. Quello è il suo nome. La ragazza ha fatto l'errore di lanciare incantesmo in una città che disapprova certe pratiche. Mancanza di tempismo, sì. Stai pensando che vuoi trovarla, vero? Certo che voglio trovarla. Cosa ne sai? E anche io ne so molto, signore. Posso tuttavia metterti in contatto con un gruppo che ne sa molto, o che comunque può scoprire delle cose. Aspetta, questo non è il posto giusto per un discorso simile. Ho un posticino migliore, proprio qui vicino. Ti ci posso portare subito, certo, sempre che tu non abbia qualche ragione per non voler venire via con me. Serviamo, Gylan. Andiamo a vedere che cosa succede. Ok, è un piacere rivedervi, mio signore. Ho visto che sei riuscito a starmi dietro. Ho avuto paura di avervi perso. Va bene. Ok, ti dico sinceramente che conosco un gruppo che può aiutarti. Posso trovarti lo stregone e anche la giovane donna, sicuramente. Ma possono fare anche di meglio di così, amico mio. Possono anche salvare la ragazza o catturare lo stregone, tanto per cominciare. Però dovresti sapere che ci vogliono i soldi. I miei amici, per contrapporsi agli stregoni incappucciati, scusate, non i soldi. Non è qualcosa che potresti fare da solo. Ok, capisco. E cosa mi potrebbe costare una cosa del genere? Ecco qui, ci siamo arrivati. Potrebbe sembrare caro, ma pensa al pericolo di contrapporsi agli stregoni incappucciati. Un prezzo onesto, se ci pensi, sarebbe 20.000 monete d'oro. È una cifra spaventosa. Sì, spaventosa, vero? È tanto, ma tu stai chiedendo ai miei amici di andare contro i desideri degli stregoni incappucciati. Ti ho detto che non è una cosa da prendere alla leggera. Non c'è modo di abbassare il costo. Nessuno. Sono 20.000 monete d'oro, ho i miei amici, non ti possono aiutare. Allora dimmi dove hai muo e ne ci andrò da solo. Puoi pensare a una cosa simile, ma lascia che ti dica che non è vero. Senza la mia organizzazione non c'è nulla che puoi fare. Scegli allora se vuoi il loro aiuto o no. Ok. 40.000. 40.000 monete d'oro è una somma spaventosa. Scusa, non erano 20.000? Ah, 20.000. Non ho capito. Praticamente nella traduzione c'era 40.000, ma credo che siano 20.000. Va bene. Molto bene, sarò di ritorno con i soldi. Cerca un tipo di nome Madene. Cercava avventurieri. Non so molto di lui, ma si trova al quartiere governativo se sei interessato. Addio e porta i miei saluti a Letinan, se ti capita di incontrarlo. Ok, quindi praticamente abbiamo scoperto che... Ecco. La traduzione non è delle migliori spazio riservato al filmato. L'accordo è stato concluso e tu hai un obiettivo per quanto distante. Il tuo nuovo amico ti ha assicurato che ti è possibile arrivare a D-Moen per il giusto prezzo. Anche se sei convinto che il prezzo finale includerà ben più di qualche moneta d'oro. Ormai però ogni aiuto è ben accetto e quanto il costo possa essere esorbitante, almeno la sala ti è chiara. Trovando A-Moen, arriverai ad A-Renicus e alle risposte che la tanto cerchi. Quindi signori, entriamo nel nuovo capitolo. Adesso ci guardiamo il filmato però. Ci sono i presi di distruti della provoca di Joaquin. Che è conosco? Non solo i nomi, ma il magma è John Irenicus. La ragazza è Immoen. Non ne faccio nulla, ha fatto nulla. La scelta, l'occhio, la persona che faccia il giudizio. Perché questo il ragazzo non è gaiato? Non è scoperto che non ti ci sono? Abbiamo capito non approcci. Inoltre, in la fine è venuto con il giusto. Sembra di capire purtroppo che noi dobbiamo raccogliere il denaro per Gailan Bale, ma il problema vero è che i Moina e i Renicus sono stati rinchiusi in una delle prigioni più... ...eh, pericolose della città. Sono sfuggito al folle labirinto del sotterraneo di Renicus solo per trovare il mago in persona, impegnato in uno scontro con alcuni assassini vestiti di pelle nera. Forse è per questo che sono riuscito a scappare così facilmente, non lo so. Gli assassini sembravano accusare il mago di qualcosa e i Renicus ha reagito con rabbia e potenti magia, addirittura parte della struttura che lo circondava è crollata sotto la forza dei suoi incantesimi. Ok, qui sto cercando di recuperare cose, ma vedo che non c'è nulla di utile a parte una piccola collana che a questo punto vado a mettere nella borsella. Abbiamo una missione delle Driedi, dovremmo... Dovremmo andare fuori dalla città, ma adesso ascoltiamo Bruce. Dobbiamo andare a trovare un certo Madden nel quartiere governativo. La cosa che mi interessa però è che non mi dispiacerebbe per ora esplorare il quartiere dei bassi fondi, però c'è una discussione con Jaira. Ebbene, adesso dove andiamo mio spavaldo condottiero? Non lo so esattamente, accetto suggerimenti. Vorrei suggerirti di darti una mossa e decidere un piano, e non ti azzardare a dire più cose come non lo so esattamente, piangi come un bambino che è stato abbandonato. Ho calciato. Mi spiace, Ravon. Non desidero accusare eccessi le frizioni nel gruppo, sono solo un po' tese, senza dubbio lo sai anche tu. Non pensarsi Jaira è comprensibile. Sì, ma non è accettabile, siamo amici e dovremmo agire come tali. Ti chiedo scusa. Quindi sta partendo la romance con Jaira, ossia Jaira adesso inizia a parlare con noi nel corso del nostro viaggio, e continuerà a farlo. Ovviamente adesso è appena morto il marito, quindi la situazione è un po' dura, però cercheremo di convincerla che in fondo siamo tutti dalla stessa parte. Allora, si parlava del quartiere governativo, forse potrei visitare i bassi fondi più avanti, perché se entro in questa crocanda poi ci sono altre quest. Andiamo a vedere il quartiere governativo. Eccolo qua, quartiere governativo. Doppio clic, ed eccoci arrivati. E qui che cosa sta succedendo? Il soldato di Han? Fermo, posa le tue armi e tieni le mani dove posso vederli. Sei sicuro che sia uno di loro? Non assomigli a quella gente. Non ho scelta e visto cosa è accaduto al comandante. Guarda il loro equipaggiamento. Potrebbe essere loro. Cosa sta succedendo? Queste non sono le persone che stiamo cercando, ne sono certo. Getteremo il panico se ci mettiamo ad accusare chiunque. Tu, hai notato niente di sospetto o di strano recentemente? Che cosa vuoi dire? Non ho capito bene cosa stai cercando. C'è giunta voce di combattimenti nella strada di notte. Deve non avere a che fare con la gilda dei ladri, bla bla bla. Sono semplicemente le guardie che ci stanno dicendo, bla bla bla, gilde, io non vedo niente, non so niente. E ora abbiamo incontrato un gruppo di fanatici. Gettate tutti lo sguardo su questa maledetta draw che abbiamo condotto in catena nel vostro cospetto. Una creatura del male e dell'oscurità, fratelli. Un frutto maledetto della follia e dell'inganno. Una creatura dedita solo alla nostra distruzione. E poi? Vogliono bruciare una draw. Una draw? Qui? Che cosa sta architettando, mi chiedo? E che cosa deve aver fatto a questa gente per indurre e averla bruciare? Non che sia necessaria una ragione, credo. Voi rivin siete pazzi. Io non ho fatto nulla a nessuno di voi. Cerco solo di continuare la mia strada senza fastidi. Perché avete fatto questo? Perché? Non hai fatto nulla? Ma sei uno di quegli elfi oscuri, no? Questa è una ragione buona come un'altra. Fai silenzio maledetta, il potere della Vergine del Disordine si manifesterà. Insomma, ci sono questi villici che stanno cercando di bruciare una draw. E quindi io adesso prenderò Rawan e andrò a liberarla. Aspetti, io ti conosco Rawan! Sono io, Vicogna de Vir. Devi riconoscermi, la mia vita dipende da te. Ovviamente Vicogna faceva parte di Baldur's Gate 1. E noi, liberiamola. E adesso abbiamo fatto incazzare i villici che ci stanno attaccando. Quindi, molto rapidamente, non dobbiamo utilizzare le magie. Quindi disattivo l'intelligenza artificiale. Però le magie le ho lanciate soltanto Minsk per proteggersi. Allora, Vicogna è un Chirico estremamente potente. Potrei... Uh, accidenti! Accidenti, qui mi stanno per ammazzare, ragazzi. Finisce male se... Non prendo una forzione. Dov'è anche scappare, perché finisce veramente male. Wow! Il fatto è che non posso utilizzare la magia all'interno delle mura cittadine, altrimenti gli stregoni escono e ci attaccano. E gli stregoni sono molto potenti. Quello che posso fare magari con... Ah, no, Ahri è stata ammutolita. Caspita, sono molto forti questi fanatici, però. Effettivamente sto giocando a difficoltà elevata e si vede. Ok. Intanto, Jaira è arrivata a livello superiore, perlomeno. Qui ci dovremmo curare tutti, mazza. Va bene. Ok, manca una guardia con l'arco e l'armatura. Se riusciamo a fare fuori questa, liberiamo Viconi e la prendiamo nel gruppo. Viconi è malvagia, e quindi potrebbe scontrarsi con Aeri o con Minsk. Oh no! Questo non ci voleva. Questo non ci voleva, ragazzi, mi dispiace. Cioè, questo non ci voleva veramente, perché se io... Tengo... Se io faccio morire Yoshimo, devo spendere tipo troppe monete per ressuscitarlo. Quindi ricarico. Salutiamo i nostri amici, parra nemici, guardie, e rimettiamoci ad attaccare questa volta e cerchiamo di farlo meglio. Quindi metterò subito nelle ombre Yoshimo, se ci riesco. Ovviamente saltiamo la parte del dialogo che abbiamo già visto. E magari salvo velocemente. Ok, mi pare di capire che... Ok, Yoshimo è riuscito ad entrare nelle ombre. Molto bene, l'abbiamo liberata. E adesso inizia lo scontro. Attacchi, tu attacchi, tu attacchi. Ok, colpo alle spalle di Yoshimo. Ho quasi ucciso il primo fanatico. Che però è riuscito a... Ad ammutolire di nuovo aeree. E questo è sempre un bel problema. Però almeno riesco adesso ad affrontare i nemici con un po' più di... Tattica. Benissimo. Non dovremmo avere problemi adesso. Infatti abbiamo subito anche molti meno danni. Però forti queste guardie. Non me le ricordavo così. Ti devo la vita, Abil. Mi hai salvato ancora una volta. Io non ho fatto nulla per provocare il loro attacco. Ti dico, stavo semplicemente camminando per la città quando quell'uomo ha scorto il mio aspetto da sotto il cappuccio. Non è rimasta sorpresa. E lui ha chiamato gli altri, rivelandomi. Suppongo abbiano caduto che fossi qui per spiarli. Idioti, questi bifolchi sono così vigliacchi. Ma vieni, dobbiamo essere sulla nostra strada presto se vogliamo evitare di attirare un'altra folla. Mi fido troppo poco di questi barbari. Sarebbe un privilegio e un onore unirmi a te, Rawon. Cosa ne dici? In verità io non sono contrario al fatto che Viconia viaggi con noi. Ricorda comunque che molti avranno una pessima opinione del gruppo a causa della sua presenza. Non lasciarla venire con noi, Rawon. La Drow, tutti i Drow, sono creature terribili e crudeli. Hanno ucciso gli avari e senza pietà e non meritano fiducia. Costiene di essere una varia ragazza. Dove sono le tue aglie allora? O ti hanno trovata patetica e balbettante come ti trovo io e se ne sono andati? Silenzio! Rawon, tu l'hai salvato. Rawanda la via. Insomma, devo decidere se tenere Aeri o Viconia. E credo che sceglierò Viconia. Mi dispiace per Aeri, ma appena potrò la cambierò con un altro personaggio. Perfetto. La reputazione del gruppo adesso è scesa di due punti. Sì, perché giriamo con una Drow. Però, tutto sommato, il vantaggio che le traiamo è notevole. Quindi non me ne faccio troppi problemi. Wow! Questo è un incantesimo di livello altissimo. Evocare Efretri. Non male. Corazza Piastre per la nostra... Ottimo. Questa la possiamo dare a Viconia, allora. Viconia ha bassissima forza, però... In un modo o nell'altro riuscirà sempre a darci la mano con i suoi incantesimi. Ok. Facciamo salire di livello Jahira, che sale come sacerdote. Quindi livello 1, 2 e 5, possiamo darle nuovi incantesimi. Il livello 1, come sempre, occorre ferite leggere. Il livello 5, a questo punto, potrebbe... Pelle di ferro è ottimo, perché quando lancia l'incantesimo, praticamente la pelle diventa magica. E si garantisce ogni due livelli dei sacerdote... Una nuova pelle. Wow! Anche cuore di massa è molto utile, però... La pelle di ferro la proteggerà in combattimento rendendola molto forte. E adesso andiamo a scoprire Viconia. Andiamo a dare un'occhiata alle sue caratteristiche. Allora, livello 8, saggezza 18, carisma 14, intelligenza 16, tanta destrezza. Molto scarsa con la forza, questo lo sapevamo. Sistemerò i suoi incantesimi fuori dalla registrazione. Comunque può curare, può rifare il restore. Molto interessante. Prima di andare a prendere la prossima missione, c'è un altro personaggio che a me piace molto nel quartiere governativo. Ed è lui. Ed è Gian, che è un mago, ed è un illusionista, e anche un ladro. Trattenete l'ognomo in nome dell'ufficio delle tasse? Ah, non di nuovo. Quell'ultimo brigante feccioso odia rape. Non ha niente di meglio da fare, che impedirà ad un onesto uomo da fare di vendere lampi picchiatori illegali, di alta qualità, a un prezzo ragionevole. Eccolo! Coprimi! Insomma, questo gnomo starà cercando di venderci delle armi illegali. Intanto è arrivato anche un bambino nel frattempo, che sta offrendo a Minsk una quest. Alle colline di Umar, a Imnesval, la gente sta scomparendo. Qualcuno di loro è ritornato, ma sono tutti rivoltati da capo piedi impazziti. Ok, probabilmente avremo una nuova quest. La accettiamo. Quindi dovremmo andare nelle colline per aiutare il bambino, ma ora dobbiamo sistemare la questione con il nostro nanerottolo. Ian Jansen, cittadino gnomico di Amsi, è stato accusato di evasione fiscale e vendita illegale di oggetti. Allora. Mi chiamo Ravon, sono un avventuriero. Bene, Ravon. Questo gnomo ha provato che... o non ha provato a venderti merci illegali, in particolare l'Ampi. Io sono un legale neutrale, però me ne frego. Non sono qui per rispondere alle tue domande, non ho fatto niente di legale, quindi lasciami stare. Lo credo bene, è Ian Jansen che vogliamo, e la legge di Amti obbliga a rispondere alle mie domande, ma voglio farti sapere che c'è una ricompensa di 100 monete per qualsiasi informazione che conduca la resta di questo gnomo. Non so di cosa parli. Insomma, abbiamo appena parato le natiche dell'ognomo. Ecco, un uomo veramente valvagio. Ha ha! Al confronto di Scrati sembrava un santo. Comunque, sembra proprio che io sia di nuovo fuori dal mercato nero, almeno finché non metterò le mani su una fortuna sufficiente di mettere su il mio commercio e corrompere per bene i superiori di Trax. Hai bisogno di una mano? Sì, benvenuto a bordo. E adesso chiediamo ad Aeri di uscire dal gruppo. Il nostro gruppo sarà fatto da Minsk, il guerriero di prima linea Ranger, Jaira, la guerriera druida, Yoshimo, il cacciatore d'Italia e ladro, la Chieri, Caviconia e il mago ladro Yan. A questo punto potrei anche scambiare Yoshimo per qualcuno di più forte come picchiatore dato che il ladro già ce l'abbiamo. Vediamo ad Aeri di tornare al circo e nel caso la andremo a recuperare se ci servirà. E Yan è molto bravo con la balestra. E ha tantissimi oggetti che lo aiutano. Molta resistenza ai danni, sa scassinare, svuotare le tasche, rimuovere le trappole. Insomma, ha un sacco di abilità. E tutti i giorni può creare mastri picchiatori. Spero che non sia una magia perché nel caso saremo arrestati. No, è semplicemente un'abilità. Quindi ogni giorno possiamo creare questi proiettili speciali che danno la possibilità di stordire l'avversario e possono essere lanciati con la balestra. Ottimi. Dovevamo andare di fronte all'edificio del Consiglio dei Sei per recuperare una quest. Se non sbaglio. Maden, salute. Io ti conosco meglio. Le tue imprese sono note a colore che servo. Penso che dovrei presentarmi. Il mio nome è Maden. E rappresento uno dei maestri dell'ordine degli stregoni incappucciati di Azkatla. E li desidero assumerti per una questione piuttosto importante. Quindi abbiamo diverse quest, ad essere sinceri. Indagare sulle morti delle colline di Umar, il bambino che è venuto a parlare con Minsk. Incontrare Tolgerias il mago incappucciato e riscuotere le tasse per Gailan Bale. Le tasse vanno riscosse... sono 20.000 monete, insomma. Che dobbiamo semplicemente guadagnare facendo missioni. Detto questo, ragazzi, io metto in pausa il gioco e vi do appuntamento al prossimo episodio in cui inizieremo la quest del mago Tolgerias. Adesso il gruppo è completo. Forse ci manca un guerriero che vorrei cambiare al posto di Yoshimo. Però, tempo al tempo, vedremo. Per il momento vi ringrazio di essere rimasti con me. Spero che la serie vi stia tenendo compagnia. Se così fosse lasciate un pollice in su e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale. Per ora da Indio è tutto. Noi ci vediamo molto presto. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.